Si comincia in classe, mi auguro non solo in classe, la scommessa è quella di rinforzare quello che è un segnale fondamentale di un percorso di crescita educativo, non soltanto di bambini, di alunni, ma di cittadini del futuro attraverso dei rinforzi che siamo basati sulla coerenza tra quello che si dice e quello che si fa. Allora, parlare di alimentazione corretta e poi distribuire merendine all'interno dell'istituzione scolastica non è un esempio di coerenza, mi autodenuncio nel senso che in atto è così, ma questa diventa una parte integrante del nostro percorso di crescita in termini di coerenza. Lo stesso discorso vale per la plastica, lo stesso discorso vale per l'acqua. Spiegare che va fatto e non farlo è l'ennesima mancanza di coerenza che finora abbiamo registrato nelle scuole, così come in qualunque altro contesto organizzato. Cominciamo con i piccoli passi, cominciamo a dire le cose che vanno fatte e a farle, questo è quello che cerchiamo di fare.